Volo per... uh che missile! Missile in terra, arriva Stirano e guadagna 15 metri, lo scarica in terra, lo accompagna e mette la caccia sui, vediamo un po', 20 metri. Mettiamo l'ultima caccia, volo campagno, ferma Rinaldi a metà campo, cambio di campo e mi sa che siamo alle battute veramente finali di questa Supercoppa. 10 a 3 per i biancorossi e anche in vantaggio in questo quattordicesimo gioco per 15 a 0. Caccia sui piedi per la Canalese e ci avviciniamo 30 a 0 al primo titolo. Per il giovane Bruno Campagno proviene dalle giovanili della Canalese, scusate, della Caragliese, poi è andato a giocare in Serie C a San Biagio, ha vinto la C, ha salvato la formazione di San Biagio di Mondovì la Serie B, poi l'anno successivo è arrivato secondo in Serie B e ha portato la formazione di San Biagio in Serie A, è stato un anno a San Biagio, poi è arrivato la corte del notaio Toppino, producendosi in una escalation di valori e di qualità e adesso dopo aver raggiunto la finale di Serie A l'anno scorso, 2010, quest'anno inizia il 2011, portandosi a casa la Supercoppa, lasciano... Uh, che bel pallone ancora di Paolo Danna, non si dà per vinto ma niente da fare, portano a casa i 15 ragazzi del notaio Toppino e andiamo sul 40 a 0, siamo a un passo. Caccia al mezzo, ah, pallone fuori, nell'orto, secondo fallo di battuta, ancora un fiato, un respiro per la propaschese, 15-40. Mettiamo una caccia, pallonaccio di Busca, dai 90, non è Intra, siamo sul... Intra, Intra e allora vince la Supercoppa, la formazione della Canalese che porta a casa il trofeo, il primo trofeo per questo giovane campione, classe 1980, 1989, 12 anni di differenza con il pluricampione Paolo Danna, quattro scudetti, 2004, 2005, 2009, 2010. Adesso andiamo alle premiazioni. Per non lasciarci il cuore Liguria, gelosamente tua A Cervere Surrauto, autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada Surrauto, nuovo, chilometri zero, aziendali e usato garantito Surrauto, un'auto da campioni Novità in campo immobiliare L'impresa Pappone presenta ad una clientela over 60 l'acquisto di alloggi con ampi terrazzi e finiture signorili, un complesso a 300 metri dal mare. La struttura garantisce a sua richiesta prestazioni medico-assistenziali, prenotazioni sanitarie e servizi vari. Il tutto a soddisfare le esigenze di una clientela over 60. 10. Adesso andiamo alle premiazioni. Un pubblico di oltre 400 persone che ha visto una partita direi non bellissima perché le squadre devono ancora, come dire, carburare. Domenica prossima inizierà il campionato, inizia con la polemica dei 12, come dire, dei turni delle 12 squadre. Insomma, ci sarebbe da parlare di questo argomento e parlarne con i dirigenti dell'associazione giocatore, della Lega, delle società o della federazione. Abbiamo finito il 2010 con tre partite con Campagno, ti sei portato a casa dallo Scudetto. Iniziamo il 2011 con una partita, però si porta a casa lui la Supercoppa. Oggi ha nettamente meritato, si è visto la differenza in campo, io ho cercato di dare il massimo, però veramente, oggi lui mi ha surclassato in tutti i campi, alla battuta, al ricaccio, al pallone a terra. Di positivo c'è la mia squadra. Stiamo crescendo poco per volta, sono giovani, hanno le qualità per fare bene, quindi sono contento di quello. Purtroppo questa Supercoppa non riesco a portarla a casa, gli anni passano e vabbè, boh. Sì, 12 anni di differenza con Bruno Campagno, hai vinto tantissimo, tantissimo, ti manca la Supercoppa. Come manca anche a Campagno, però lui l'ha portata a casa. Sì, beh, ma lui secondo me ne vincerà ancora di Supercoppa. Io purtroppo le occasioni passano velocemente e gli anni si accorciano. Sì, non devi dire così. No, ripeto, magari poi avrò l'occasione nel prossimo anno se vinco qualcosa. Hai fatto, hai fatto, hai parlato a casa due Scudetti 2009-2010 e nessuno subito dava, come dire, ti dava vincente perché arrivavi da un'annata sfortunata in Liguria. Sì, io sono, guarda, non voglio guardarmi indietro. Quello che ho fatto l'ho fatto, sono contento. Dico sempre che forse ne ho tre di troppo di Scudetti perché nella vita penso che un atleta ha l'obiettivo di vincere lo Scudetto. Io ne ho 24. Certo è che guardo sempre avanti, guardo sempre a fare bene di anno in anno. Quest'anno credo che qualcosa di buono possiamo farlo. Non so cosa ancora, ma qualcosa di buono ci proveremo a farlo. Sarai una chioccia per tanti giovani? Ma non lo so, non so se ne sono capace. Siamo all'inizio di una stagione, quindi probabilmente il suo fisico ha necessità di un po' di rodaggio, anche per l'età che ha, come giustamente è stato sottolineato, 12 anni. L'altro purtroppo è dirompente, l'altro se l'anno scorso era una speranza per molti, oggi si è confermato già dalla prima giornata, dalla prima volta che è sceso in campo ufficialmente, si è dimostrato ormai un giocatore affermato, uno che sicuramente è destinato ai play-off, ed è destinato forse alle fasi finali del campionato, e sperando che i due giovani, che sono oggi ancora una speranza, ma che si confermino anche loro che migliorino in un attimo, ecco che avremo un campionato incandescente, un campionato come da anni non si vedeva. Ti porti a casa il tuo primo trofeo di Serie A, hai portato a casa tanto dalle giovanili, la C1, un secondo posto in B, e adesso dopo la finale di A ti porti a casa la Supercoppa? Sì, era un po' che non vincevo qualcosa, quest'anno è iniziato bene, abbiamo vinto la Supercoppa, e speriamo di continuare su questa via, perché comunque ci stiamo trovando bene sia in campo che fuori, e questo è molto importante. Cosa ti danno i tuoi compagni in campo? Hai uno squadrone che ti sostiene, tu sei il più giovane. Sì, sicuramente mi danno una sicurezza non indifferente, perché comunque sono grandi campioni e grandi amici, quindi giocare con loro è più facile, diciamo, mi insegnano anche tecnicamente come muovermi sul campo, ed è importante questo. Come dicevo Adanna, avete finito il 2010 con tre partite, avete iniziato il 2011 di nuovo, qual è secondo te l'avversario che quest'anno troverai più ostico? Sicuramente saranno in tanti, a contendersi lo scudetto. Noi speriamo di essere una di queste squadre che lotterà per arrivare fino alla fine. Comunque ci sono molti giocatori, molte squadre molto forti, quindi citarne uno è poco, è un torto. Grazie a Bruno Campagno, un giovane talento. Passione, tradizione e innovazione. Così nascono i vini delle cantine Manfredi. Vini di qualità, provenienti da uve e selezionate. Utilizzando metodi produttivi eccellenti che si pongono a tutela dell'ambiente e del consumatore. Sulla vostra tavola ogni giorno, così come nelle grandi occasioni, potrete assaporare la migliore tradizione delle langhe. A Farigliano, azienda vitivinicola Manfredi.